Buongiorno a tutti e ben ritrovati con la rubrica dei due minuti di Vangelo. Il testo di oggi è composto dai versetti 7 e 11 del capitolo primo di San Marco. È la più antica narrazione che ancora abbiamo oggi sul cosiddetto battesimo di Gesù. Il brano si apre con la proclamazione di Giovanni il Battista per l'attesa di colui che è più forte di lui. Una forza che, stando alle testimonianze dell'epoca, non doveva certamente essere quella dei muscoli, dal momento che Giovanni era abbastanza mingerlino. È una nuova forza di vita, quella che Gesù sprigiona e che fa dichiarare a Giovanni, io addirittura non sono neppure degno di servirlo. Una forza che è originata dallo Spirito Santo, segno di demarcazione del nuovo battesimo introdotto da Gesù. Sì, perché di battesimi è sempre stato pieno il mondo. Lo stesso Giovanni battezzava, ma il suo era un segno d'acqua, cioè un battesimo fondato solo sullo sforzo umano e sulla capacità dell'individuo di vincere le passioni e il peccato. Ma il battesimo di Gesù ha una nuova forza. Si muore nell'acqua per rinascere alla vita vera. Perciò coloro che vengono battezzati nello Spirito Santo sono persone diverse rispetto a prima. Ma andiamo per gradi. Perché dico questo? Per la frase che si ode dal cielo nel momento in cui Gesù riemerge dal Giordano. Tu sei il figlio mio l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Questa frase, detta quel giorno da Dio su Gesù, in realtà Dio continua a dirla ogni volta che si celebra un nuovo battesimo. Cioè, che tu ed io siamo figli è una verità che è diventata tale il giorno del nostro battesimo. Marco, tu sei mio figlio amato. Questo ha detto Dio il 24 agosto del 1980 nella chiesa di San Martino Vescovo in Capernianica, dove sono stato battezzato. Ed è una parola irrevocabile. Per quanto io possa allontanarmi da lui, per quanto una persona possa rinnegarlo, Dio non smetterà mai di essere padre e di amare, e di amarci come figli. Per quanto io possa cedere alla cattiveria o al male, Dio mi amerà sempre e aspetterà fino all'ultimo istante il mio ritorno a Lui. E questo è tanto più vero per il fatto che a questa prima frase se ne aggiunge subito un'altra. In te ho posto il mio compiacimento. Cioè, Dio si stima di te, di te che mi stai ascoltando. Dio astima e si stima di te. Con un po' di fantasia dovremmo pensare che se Dio avesse qualcuno con cui parlare dei Suoi figli, cioè di noi, certamente racconterebbe a tutti quanto siamo bravi, anche se magari non siamo perfetti, e di quanto Lui è contento della nostra vita. Esattamente come fanno tutti i padri quando sono in pubblico. Perché Dio è così, non tiene conto dei nostri fallimenti, ma si accende e si esalta per tutte le cose, magari anche piccole, che riusciamo a fare nel bene. Questo dovremmo ricordarlo sempre, soprattutto quando il peso del nostro male e dei nostri errori dovesse farsi insostenibile. Mai disperare per il male commesso, perché per quanto dovessimo ritrovarci abbandonati da tutti, Dio, il Padre che ci ama e che si stima di noi non smetterà di volerci bene e di darci il suo supporto. E così anche oggi siamo arrivati alla fine del commento sul Vangelo. Fammi sapere ciò che lo Spirito ha suscitato in te all'ascolto di questo brano e metti un like a questo video. Non dimenticarti di condividerlo con chi ritieni possa trovarne giovamento. E mentre ti saluto, ti do appuntamento alla prossima volta. A presto! Grazie a tutti! Grazie a tutti!